John Burke Krasinski è un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Nato a Newton, nel Massachusetts, ultimo dei tre figli di Ronald Krasinski, medico internista statunitense di origini polacche, e di Mary Doyle, infermiera statunitense di origini irlandesi Krasinski fa il suo esordio in una commedia teatrale scritta dal B. J. Novak, futura co-star di The Office Krasinski e Novak si diplomeranno insieme alla Newton South High School nel 1997 In seguito studia alla Brown University come drammaturgo Dopo alcuni cortometraggi e ruoli televisivi, esordisce al cinema con un piccolo ruolo in Kinsey del 2004 In seguito ottiene piccole parti in Jared, L'amore non va in vacanza e Dreamgirls Acquista popolarità grazie all'interpretazione di Jim Halpert nella serie TV The Office Nel 2006 la rivista People lo ha inserito tra gli uomini viventi più sexy Nel 2007 doppia Sir Lancilotto in Shrek Terzo e lavora al fianco di Mandy Moore e Robin Williams in licenza di matrimonio Sempre nel 2007 esordisce alla regia, dirigendo l'adattamento cinematografico della raccolta di racconti di David Foster Wallace Brevi interviste con uomini schifosi, ed è co-protagonista di Inamore niente Ray Holiday e con George Clooney Nel 2015 è tra i protagonisti di 13 Aulas, The Secret Soldiers of Benghazi Nel 2018 recita, accanto alla moglie Emily Blunt, nel film A Quiet Plus, un posto tranquillo, dove veste anche i panni di sceneggiatore e regista Il film narra le vicende di una famiglia che vive in una fattoria isolata costretta a vivere nel silenzio assoluto, per evitare l'attenzione di una razza aliena che attacca non appena sente un qualsiasi rumore Nel 2009 si fidanza con l'attrice inglese Emily Blunt La coppia si è sposata il 10 luglio 2010, a Cernobbio, sul lago di Como La coppia ha due figlie, Hazel, nata il 16 febbraio 2014, e Violet, nata nel giugno 2016 Nelle versioni in italiano dei suoi film è stato doppiato da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane